Il Movimento 5 Stelle ha presentato al Tar della Campania un ricorso contro la candidatura di Vincenzo De Luca alla Presidenza della Regione. Il ricorso è stato presentato dagli Avvocati Stefania Marchesi e Oresti Agosto ed è stato sottoscritto da Valeria Cerambino, la candidata dei Grillini in questa tornata elettorale. In calce anche le firme dell'Europarlamentaria di Nolfi e dei deputati Cioffi, Giordano, Pisano e Tofalo, tutti nella qualità di cittadini elettori della Regione Campania. Secondo i pentastellati la candidatura di De Luca è lessiva al corretto espletamento della competizione elettorale, in quanto l'ex sindaco di Salerno risulta carente dei requisiti soggettivi e politici e dunque incandidabile oltre che ineleggibile. Nel ricorso vengono citate la condanna in primo grado del Tribunale di Salerno inflitta a De Luca il 21 gennaio scorso e la sospensione dalla carica di sindaco da parte del prefetto il 23 gennaio, che secondo i ricorrenti risulta pienamente operante. Il Movimento 5 Stelle con questo ricorso ha in sostanza chiesto ai giudici del Tar di verificare la correttezza degli atti prodotti dall'ufficio della Corte d'Appello napoletana, in modo da fugare ogni dubbio sulla correttezza della competizione che al contrario rischierebbe di essere inficiata. Per i grillini gli elementi per stoppare la corsa verso Palazzo Santa Lucia del candidato del centrosinistra ci sarebbero tutti, anche perché il caso De Luca ha avuto in questi mesi una rilevanza mediatica a livello nazionale, tale da far diventare l'ex primo cittadino uno dei politici più richiesti dai grandi network nazionali. Tutto quel lavoro d'immagine ora potrebbe diventare un pericoloso boomerang. Per i grillini infatti proprio quell'esposizione mediatica avrebbe dovuto indurre gli uffici ad una verifica stringente sulla sussistenza di alcune delle condizioni di incandidabilità. Ora la parola aspetta i giudici napoletani che potrebbero pronunciarsi già entro questa settimana.